Ciao ragazzi, grazie di essere qui con noi oggi, allora oggi sarà un video super super richiesto, in cui farò un semplice, diciamo più che massaggio alla schiena, farò un po' di scratching, un po' di tracing, ho anche dei pennelli per fare un po' di brushing, ho anche una gecgino cinese per fare una specie di massaggio. Adesso raccogliamo i capelli, creme a tanti e lunghi, e poi iniziamo con la schiena. So che in molti sarete invidiosi della mia amica, però lei si lamenta sempre. Faccio un attrezzo. Grazie. 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 me li portiamo da una parte così diamo un pò e il collo libero. いきます. e comincio con un po' di scratching con le mie unghie sulla parte superiore della schiena che secondo me è sempre un po' più sensibile ai grattini hai presi? e perché si stesse chiedendo perché sto parlando a bassa voce? la risposta è che questo è un video A S M R quindi questo è un video con lo scopo principale di provocarti i famosi prevedini quelli che ad esempio si possono provare o si provavano quando da piccoli ci facevamo i grattini alla schiena così ok adesso prima di provare a scrivere un po' di parole facciamo un po' di si facciamo un po' di onda del mare questo è un po' di questo è un po' di ilョ il sole con tanti tanti raggi e una nuvola come oggi mi sentivo un po' monopoloso un soleggiato monopoloso ok un po' è 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 un po Ok, adesso proviamo con qualche parola, ovviamente, cominciamo con relax, per essere molto scontati. E, N, E, X. e qui e qui e qui e qui e qui e qui un po' di tapping leggero e qui la cosa che ho mai visto di più sono i grattini qui sul collo quelli che poi scendono sono stupendi e poi scendono sulle spalle e sulla schiena ok allora proviamo una parola vediamo 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 suggerci una parola Sviva S V E V A la Sviva perchè non lo sapesse è un cane ed è in particolare è una che è di razza S S E D D E L è un bel sentiero è un bel sentiero allora condiviamo ora un libro che si chiama Le Stanze di Lavanda quindi andiamo un po' a scriverlo S L I S D A N Z A D L L A V A D A E poi abbiamo D L L L L L A L A L A N D ok ora Ora andiamo a fare un po' di brushing anzi andiamo prima un po' con la massaggiatura a L A A A A A Donc A A A A un po' sulla spalla questo è un silenzio ho una serie di pennelli ho una serie di pennelli qui io ho scelto questi tre super morbidi uno due uno e tre e andiamo a fare un po' di brushing andrò anche un po' sul colore è super morbido e vado un po' prima sui contorni della schiena in questo modo e poi vado a riempire come se fosse un colore delicatamente ok diciamo sul collo sulle spalle e gi e gi e su e gi e su e gi e gi e su in questo modo in questo modo possiamo anche una cosa di sirene di casamento e per che è è un un Usiamo anche l'altro Questi coperti sono bellissimi Questo è molto più largo Non ho mai capito cosa serve questo pennello Tanto a me serve per fare vite Piaaa 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 Acosto a me Seguendo le forme della schiena Piaaa 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 poi andiamo a fare di nuovo un po' di scrittura sulla schiena un po' di disegnere cominciamo con un bel triangolo facciamo un quadrato più o meno cancelliamo facciamo un rettangolo cancelliamo questa è una casa stilizzata a triangolo abbiamo una porta e le finestrelle le minuti artistiche sono veramente apprezzabili un gamino con delle forme e poi abbiamo l'erba tutta qui chiediamo un albero un'altalena poi facciamo due nuvolette il sole e il sole ok allora io spero vi siete rilassati con questo video adesso adesso lo sciocco i capelli e vi auguro una buonanotte l'uovo l'uovo lo rompo e si sbagli una buonanotte scegliamo la brezza e intanto vi auguro una buonanotte una buona giornata spero spero che questo video mi abbia rilassato mi abbia fatto quasi chiedere gli occhi quasi o del tutto buonanotte no buonanotte buonanotte sogni d'oro che sono che bene c'è lì spero che